Sarà Francesco Logrieco il nuovo presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani. Le elezioni presso il foro della sesta provincia pugliese, che si sono svolte nel corso della settimana, hanno riportato alla guida l'avvocato tranese, che è risultato il più suffragato al termine dello spoglio. Sono state 846 le preferenze per Logrieco, che ha già ricoperto la carica di presidente dal febbraio 2008 al dicembre 2014. In passato è stato anche consigliere tesoriere, mentre reduce dall'incarico di vicepresidente del Consiglio Nazionale Forense, ruolo ricoperto dal 2015 al 2019, e inoltre presidente della ONLUS Ordine Avvocati di Trani. Logrieco prenderà il posto di Tullio Bertolino, che ha chiuso i suoi 8 anni di mandato proprio a metà gennaio. Eletti anche altri 20 consiglieri grazie ai 1478 voti scrutinati. Sono state 9 invece le schede bianche. La formale elezione di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere avverrà durante la prima seduta del nuovo Consiglio dell'Ordine, in data ancora da calendarizzare. Logrieco è pronto a riprendere la carica di presidente.